Che devo consigliare? Caro mercato del lavoro, che cosa devo consigliare ai miei figli? Di fare l'ebanista, l'orefice, il sellaio, l'infermiera, il vetraio, il falegname, l'artigiano? Di studiare il greco ed il latino? Commento. Se i tuoi figli non hanno nessuna vocazione, come spesso accade, non devi consigliare niente. Le difficoltà che avranno nel trovare un lavoro saranno i mattoni migliori della loro evoluzione.